I senati federali come sono composti normalmente, se mai, dagli esecutivi che rappresentano gli stanze territoriali con un vincolo di mandato per rappresentare i territori. In realtà questo senato, che infatti non l'hanno nemmeno chiamato senato federale o senato dell'autonomia, ma l'hanno lasciato senato della Repubblica, semplicemente eleggerà dei senatori con elezioni di secondo grado, quindi nella sostanza verranno eletti dalle forze politiche dei consigli regionali, ovvero dalle segreterie del partito, non avranno vincolo di mandato, godranno dell'immunità parlamentare e, malgrado non abbiano un mandato politico da parte dell'elettorato, incideranno su materie importantissime in regime di bicamerismo perfetto, come per esempio possibili future riforme costituzionali. Io le faccio un esempio velocissimo. Se lei, dottoressa Sardoni, si candidasse domani a Presidente del Consiglio, con il programma di trasformare il nostro Paese in un Paese federale, ottiene il 99% dei voti dei cittadini di questo Paese, perché tutti vogliono trasformare il Paese in senso federale. Se oggi fosse in vigore quella riforma, quindi non è un caso teorico se venissero il 2, il 3, il 5% di determinati voti, ma quanto avverrebbe oggi? Lei, malgrado il 99% di consensi, malgrado una schiacciante maggioranza alla Camera dei Deputati, indipendentemente dalla legge elettorale, malgrado lei eletta furor di popolo Presidente del Consiglio, lei non potrebbe trasformare il Paese in senso federale, perché circa 65-70 senatori, non eletti dai cittadini ma scelte dalle segreterie del partito, sarebbero del Partito Democratico, che vediamo in questa riforma, fortemente centralista. Quindi viene tolto non soltanto il potere alle rappresentanze territoriali, ma il popolo, che non potrà più scegliere liberamente, per esempio, anche future riforme, perché Renzi si è messo la fish in tasca, anche se non prende i voti, per continuare a incidere, a ricattare e a gestire il potere.